Come possiamo rispondere? Come possiamo rispondere alle richieste del mercato in questo momento difficile e allora nasce il progetto Qui non ho paura e ci siamo studiati, progettati questi pannelli in varie dimensioni e anche in vari stili, trasparenti sicuramente per essere poco invasivi, per dare la possibilità sia ai ristoratori di diminuire il meno possibile le persone nei loro locali e alle persone stesse di entrare in sicurezza nei locali. e tornare a un minimo di normalità, quindi bersi un caffè insieme, un bicchiere di vino, un buon piatto. Cosa è che vi differenzia dagli altri produttori, dalle imprese che possono realizzare prodotti simili? Guarda, secondo noi la Dream Project, quello che differenzia la Dream Project dai produttori di pannelli è che noi siamo una società che progetta e realizza per esempio mobili, cucine, oggetti customizzati su misura. E questo è il caso, noi l'abbiamo pensato e l'abbiamo realizzato con un artigiano di nostra fiducia. Quindi noi cosa possiamo dare in più? Diamo praticamente chi vuole acquistare il nostro prodotto, gli diamo una consulenza gratuita per ripensare e ridisegnare i propri spazi interni. E questo secondo me per un titolare di attività è una cosa molto importante. I prodotti che abbiamo a disposizione sono tre. Il primo si chiama PlexiPose ed è un prodotto totalmente trasparente e innovativo, autoportante ed è possibile utilizzarlo in modo modulare. Il secondo prodotto si chiama PlexiCurve ed è un prodotto con a disposizione tre dimensioni diverse. È possibile averlo sia su con i piedini che con le ruote e l'ultimo prodotto si chiama PlexiFrame che anch'esso ha tre dimensioni e sempre con la possibilità di averlo con piedini oppure ruote. Invito sinceramente tutti, a prescindere dal fatto che facciano uso delle nostre soluzioni, a mandarci foto o video utilizzando lo slogan hashtag qui non ho paura. Perché vorrebbe dire che almeno abbiamo trovato un modo per sentirci meno soli e più vicini. Noi li pubblicheremo sul nostro sito. È un modo per eliminare le distanze che spero tanti possano accogliere.